Oggi siamo all'Oklahoma Camp di Cerro Maggiore per provare la Eclair & Coq P30 V3, calibro 9x21. Verificheremo il peso di spiancio dello scatto e la precisione sulle rosate. Per la prova di oggi useremo due tipi di munizioni, le Fiocchi e Sellebelot. Entrambi con palla da 124 grani, le Fiocchi con palla ramata e le Sellebelot con palla blindanda. La caratteristica della P30 è di funzionare sia a doppia azione sia in singola. Il peso di sgancio in doppia azione è 4.26 kg, mentre in singola azione il peso è 2.7 kg. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!